Il 27 gennaio ricorre il giorno della memoria in commemorazione delle vittime dell'olocausto. A 70 anni esatti dall'apertura dei cancelli di Auschwitz che spalancarono agli occhi del mondo l'orrore della Shoah, Pordenone ha ricordato questi tragici avvenimenti con le deposizioni di corone al monumento al deportato in piazza maestri del lavoro e ai piedi della targa commemorativa nella corte della sede della provincia. Secondo me questa data per noi è una specie di esame, per tutti noi. Quanto ancora siamo sicuri che l'avere imparato a non dimenticare sia attuale, non solo per noi ma per i nostri ragazzi, nelle scuole, nella nostra comunità. È una giornata che da un lato ci consente di capire quanto abbiamo imparato ma dall'altro anche verificare la nostra capacità di stare attenti non solo oggi, il 27, ma tutto l'anno. La giornata della memoria rappresenta sicuramente un momento di importante riflessione su quello che è accaduto in passato ma deve anche darci degli elementi di decodifica per interpretare quello che sta accadendo e che potrà accadere in futuro. Per cui soltanto con uno sforzo culturale e cambiando paradigmi dei nostri ragionamenti riusciremo a trarre quegli spunti positivi per far sì che quanto è accaduto in passato non debba più ripetersi.